Proseguono a Teramo le visite dei big nazionali a sostegno dei candidati sindaci in vista delle prossime elezioni amministrative. Nella serata ieri ha fatto tappa in città il presidente del PD e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a sostegno del candidato sindaco civico di centro-sinistra Gian Guido D'Alberto. Il sindaco uscente può contare in questa corsa al mandato bis su 5 liste civiche e 2 liste di partito PD e Movimento 5 Stelle. Una coalizione ampia vista di buon grado da Bonaccini che guarda un modello allargato anche per le elezioni regionali. Si vota per un comune per cui conta molto il radicamento territoriale e soprattutto il valore aggiunto che possono portare oltre ai partiti anche liste civiche che abbiano radicamento e che puntino indipendentemente da come i loro componenti votano poi a livello nazionale o anche persino a livello regionale, da come valutano l'operato di un'amministrazione. Qui si è lavorato bene, bisogna lavorare per dare continuità, credo che sia giusto premiare il buon governo e io sono molto contento che si sia fatta una coalizione attorno al candidato che sia la più larga possibile proprio perché bisogna provare a battere la destra che è il vero avversario. Il presidente Bonaccini è anche intervenuto sulla tematica legata al decreto lavoro. Serviva mettere parecchi miliardi di euro per tagliare il costo del lavoro in due direzioni. Uno per aumentare le buste paga di alcune professioni che fino a qualche anno fa magari ti mettevi persino un po' di risparmio da parte ma che oggi non ti permettono più di arrivare nemmeno a fine mese con le bollette così alte, l'inflazione al 12% e la spesa aumentata. E poi andrebbero se si facesse un taglio strutturale almeno del 30% di decontribuzione per quelle imprese che assumono ragazzi e ragazze piuttosto che con un contratto precario, con uno stabile ma allora bisogna che tu fai costare il lavoro stabile meno di quello precario. Fino a che in questo paese il precariato sarà più conveniente anche per gli imprenditori rispetto a un lavoro stabile noi non daremo risposte soprattutto a una generazione, quella dei nostri figli che indipendentemente dal titolo di studio nell'80% dei casi ha un lavoro precario e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi è un palliativo che non dà alcuna misura strutturale e che credo lo stiano celebrando a modi propaganda e questo paese di tutto ha bisogno tranne che della propaganda. Inoltre sempre a sostegno di Dalberto è previsto per domenica pomeriggio l'arrivo del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.